Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguri. In questo video parliamo del lutto che ha colpito Antonella Clerici, grande protagonista di questa annata televisiva con la trasmissione Rivelazione. È sempre mezzogiorno Antonella Clerici, è ritornata a riscuotere un successo straordinario prima di iniziare, prima di scoprire qual è il lutto che ha funestato Antonella Clerici, vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, dicevamo del successo strepitoso di è sempre mezzogiorno e proprio durante la famosa trasmissione Rai Antonella Clerici ha voluto ricordare un suo caro amico per la verità, una persona, un personaggio molto importante nella televisione e nella musica italiana. Antonella Clerici ha annunciato la scomparsa del suo caro amico Andrea Lovecchio, era un autore televisivo e un paroliere molto importante, è stato colui che ha scritto la bellissima canzone di Roberto Vecchioni, Lucia San Siro e Antonella Clerici ha voluto omaggiare. Il maestro l'ha fatto in diretta televisiva. Amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. Grazie a tutti.